Maria Mattarella, le condoglianze di Ellie Schlein, Partito Democratico. Cordoglio per Maria Mattarella. Ellie Schlein e il Partito Democratico. Il panorama politico italiano ha recentemente perso una figura di rilievo. Maria Mattarella, la sorella dell'ex presidente Sergio Mattarella. La sua morte ha suscitato grande dolore e numerosi politici hanno espresso le loro condoglianze. Besonders hervorzuheben ist die Reaktion von Ellie Schlein, der Vorsitzenden des Partito Democratico, die in einem bewegenden Statement ihre Trauer über den Verlust von Maria Mattarella zum Ausdruck brachte. Ellie Schlein betonte, dass Maria Mattarella eine bemerkenswerte Persönlichkeit war, die sowohl in der Politik als auch im sozialen Engagement große Spuren hinterlassen hat. Ihre Stimme sei stets für die Gerechtigkeit und die Menschenrechte eingetreten. Besonders hervorzuheben ist die Reaktion von Ellie Schlein, der Vorsitzenden des Partito Democratico, die in einem bewegenden Statement ihre Trauer über den Verlust von Maria Mattarella zum Ausdruck brachte. Ellie Schlein betonte, dass Maria Mattarella eine bemerkenswerte Persönlichkeit war, die sowohl in der Politik als auch im sozialen Engagement große Spuren hinterlassen hat. Ihre Stimme sei stets für die Gerechtigkeit und die Menschenrechte eingetreten. Jetzt hier die Übersetzung. È particolarmente significativa la reazione di Ellie Schlein, presidente del Partito Democratico, che ha espresso in una commovente dichiarazione il suo dolore per la perdita di Maria Mattarella. Ellie Schlein ha sottolineato che Maria Mattarella era una personalità straordinaria, che ha lasciato un'impronta significativa sia nella politica che nell'impegno sociale. La sua voce è sempre stata a favore della giustizia dei diritti umani. Die Vorsitzende des Partito Democratico würdigte ihren Einsatz und ihre Hingabe, die das Erbe ihrer Familie widerspiegeln, insbesondere das ihres Bruders Pier Santi Mattarella, der als ein Opfer der Mafia gilt. Schlein erklärte, dass die Familie Mattarella mit ihren Taten und Überzeugungen ein Symbol des Widerstands gegen die Mafia und für die Demokratie sei. Die Nachricht von Maria Mattarella's Tod hat in Italien und darüber hinaus für Bestürzung gesorgt. La presidente del Partito Democratico ha lodato il suo impegno e la sua dedizione, che riflettono l'eredità della sua famiglia, in particolare quella di suo fratello Pier Santi Mattarella, considerato una vittima della mafia. Schlein ha dichiarato che la famiglia Mattarella, con le sue azioni e convinzioni, è un simbolo di resistenza contro la mafia e a favore della democrazia. La notizia della morte di Maria Mattarella ha suscitato sconcerto in Italia e altre. Die Politikerin, die sich für verschiedene soziale Belange einsetzte, wurde in den sozialen Medien von vielen ihrer Weggefährten gewürdigt. Ihre politischen Mitstreiter beschrieben sie als leidenschaftliche Kämpferin für soziale Gerechtigkeit. Schlein hob hervor, dass Maria Mattarella ein Vorbild für viele sein werde, insbesondere für Frauen in der Politik, die es schwer haben, sich in einem von Männern dominierten Bereich durchzusetzen. Maria Mattarella interlässt ein Erbe, das eng mit den Idealen ihrer Familie verbunden ist. La politica che si è impegnata per diverse questioni sociali è stata celebrata sui social media da molti dei suoi compagni di viaggio. I suoi colleghi politici l'hanno descritta come una combattente appassionata per la giustizia sociale. Schlein ha sottolineato che Maria Mattarella sarà un esempio per molti, in particolare per le donne in politica, che faticano a emergere in un settore dominato dagli uomini. Maria Mattarella lascia un'eredità strettamente legata agli ideali della sua famiglia. Il nome Mattarella è indissolubilmente legato alla resistenza contro la mafia e Maria ha portato avanti questa tradizione nel suo lavoro di vita. Sua nipote, anch'essa parte della famiglia Mattarella, ha espresso pubblicamente l'importanza di sua zia riconoscendo il suo instancabile impegno per il bene comune. Ha menzionato che Maria è sempre stata determinata a supportare le persone in difficoltà e a garantire loro una partecipazione attiva nella società. Ellie Schlein ha esortato nel suo intervento a onorare l'eredità di Maria Mattarella, continuando a lottare per una società giusta e solidale. Ha sottolineato come il Partito Democratico si senta impegnato a promuovere e mantenere i valori per cui Maria ha lottato. Il lutto per Maria Mattarella non è solo una questione personale per la famiglia, ma rappresenta anche una perdita sociale che coinvolge tutti. Nei prossimi giorni saranno organizzati numerosi eventi commemorativi in occasione della sua scomparsa, per celebrare il suo operato e ricordare le persone che si sono impegnate per una società migliore. È stato annunciato che anche politici di altri partiti parteciperanno a questi eventi, sottolineando il riconoscimento bipartisan del contributo di Maria Mattarella. La celebrazione di Maria Mattarella da parte di Elie Schlein e del Partito Democratico è un chiaro segno di quanto sia importante preservare la memoria di coloro che hanno lottato per il bene nell'arena politica. Questo atteggiamento potrebbe essere visto come un barlume di speranza in un panorama politico così spesso polarizzato e rappresentare un'ispirazione per la futura generazione di attivisti politici. Il ricordo di Maria Mattarella vivrà senza dubbio sia nei cuori della sua famiglia che nella memoria collettiva della società italiana. Autore Anita Faache, martedì 10 settembre 2024 Grazie a tutti.